benvenute e benvenuti a voi che seguite i canali della fondazione bruno kessler a voi che ci leggete che ci ascoltate e che anche ci vedete con questo primo appuntamento di approfondimento intendiamo fornire a voi che ci seguite l'opportunità di approfondire dei temi che ci interessano nel nostro presente il tema del quale parleremo oggi è la guerra ne parleremo con marco mondini benvenuto marco grazie claudio che insegna history of conflict in inglese si dice così perché se lo insegna in inglese immagino è storia è storia contemporanea all'università di padua ma prima di andare a padua marco ha servito come si direbbe in gergo militaresco filo americano per tradurre in italiano malamente ha servito per sei anni all'istituto storico italo germanico della fondazione bruno kessler io sono claudio ferlan e sono uno storico anch'io ricercatore tuttora in servizio all'istituto storico italo germanico della fondazione bruno kessler marco la prima domanda che ti faccio è questa in molti osservatori politologi giornalisti ci hanno raccontato che la guerra non sarebbe accaduta perché non conveniva ma la guerra c'è come si spiega beh si spiega col fatto che molti analisti anche analisti molto preparati molto colti molto in gamba che fanno questo di lavoro hanno cercato di analizzare di interpretare di prevedere il comportamento della leadership russa di fronte alla possibilità di una guerra su vasta scala con i nostri metri di giudizio da europei occidentali o da statunitensi dei metri di giudizio che potremmo definire se vogliamo mercantili o razionali in maniera economicistica un parametro di giudizio che fa il conto con il problema dei costi benefici e quindi se detto la guerra non verrà fatta putin non scatenerà la guerra perché non gli conviene il problema è che analizzare una leadership autocratica che basa gran parte del suo consenso se non tutto il suo consenso oggi su problemi di prestigio e potenza su richiami storici alla grandezza della russia il progetto del rushkimir della ricostruzione dello spazio imperiale russo non dell'unione sovietica come tutti i russologi e gli analisti che si occupano specificamente di politica russa hanno chiarito a putin dell'unione sovietica non gliene frega né tanto né poco a lui interessa ricostruire lo spazio imperiale russo che era quello frammentato dopo il 1991 quello che ha lasciato un trauma se vogliamo nella comunità che lui sostiene essere la comunità russa cioè i russi propriamente detti i piccoli russi cioè gli miei bielorussi ora analizzare un programma come quello di putin perché un programma dichiarato esplicito adesso le analogie per gli storici sono dei diavoletti maligni che bisognerebbe sempre evitare e quando si paragona putin a hitler non si fa solo un'analogia si fa una cattiva analogia è inconcepibile cercare di analizzare il progetto dell'autocrata del cremelino oggi seguendo le dinamiche dell'avvento al potere di adolf hitler e tuttavia almeno un parallelismo si potrebbe trovare se non altro proprio per capirsi il programma di adolf hitler era a grandi linee già tutto esplicitato nel mein kampf ora putin non ha scritto il mein kampf e non credo nemmeno che aspiri a una guerra di sterminio per dirla tutta poi io non sono un russologo quindi magari mi sbaglio spero di no ma le sue dichiarazioni negli ultimi anni erano molto esplicite invece e non faccio solo riferimento a quello strampalato ridicolo discorso di revisione dell'identità storica delle comunità nazionali che ha fatto pochi giorni prima di scatenare la guerra ma mi riferisco anche a un lungo articolo pubblicato a sua firma non so se l'abbia scritto lui non credo però la firma era la sua in cui lui definiva e definiva tanto tempo fa il problema della ingiustizia dell'esistenza di una nazione ucraina ora gli storici sono ormai 40 anni che hanno definito come irrilevante il problema della storicità delle nazioni le nazioni non sono entità ontologiche non esistono in natura la nazione è un manufatto culturale le identità nazionali si creano e si disfano detto questo l'ucraina è uno stato sovrano che esiste da 30 anni con una sua identità come comunità stato come stato che aspirava a essere uno stato nazione quindi con un'identità collettiva coesa si potrebbe anche dire che in realtà il vero padre dell'identità dell'identità nazionale ucraina è proprio vladimir Putin quando lui ha scatenato la guerra il 24 febbraio ha fatto sì che i segmenti della popolazione russofano dell'ucraina che non guardavano propriamente benissimo il governo di Kiev si siano trovati nella situazione in cui potersi o doversi proclamare ucraini perché forse Putin avrà cercato di leggiucchiare qua e là qualche strampalato manuale di storia ma credo che abbia bigiato la lezione in cui gli spiegavano che è dai tempi di georg simmel che le identità nazionali vengono definite in maniera relazionale un'identità nazionale si crea in guerra si crea per conflitto linda colley molti anni fa ha scritto un libro molto bello che si intitola britons in cui studiava la formazione dell'identità nazionale britannica quindi mettiamo insieme inglesi scozzesi gallesi cos'è che li tiene insieme l'essere qualcos'altro qualcos'altro da chi beh l'essere protestanti e non cattolici l'essere al di qua del canale della manica e non al di là quindi sono britannico perché non sono francesi sono britannico perché sono sempre in guerra con i francesi eccetera eccetera e questo discorso vale in maniera un pochino più sfumata non così semplicistica per tutte le identità nazionali ecco Vladimir Putin ha creato l'identità nazionale ucraina ma al di là di questo in realtà lui questa guerra l'ha pensata l'ha progettata l'ha pianificata perché oggi sappiamo ed è evidente che era pianificata da mesi se non forse da anni in termini di prestigio e potenza non in termini di guadagno economico il problema è che molti dei nostri analisti o molti dei nostri cosiddetti analisti alcuni semplicemente sono ormai dei dilettanti allo sbaraglio perché non hanno più la capacità di parametrare i propri giudizi nel mondo in cui viviamo oggi alcuni sono semplicemente troppo vecchi alcuni prendono delle cantonate non lo so penso a Sergio Romano famoso ex ambasciatore a Mosca sì che però era ex ambasciatore negli anni 80 e oggi è semplicemente una persona probabilmente troppo anziana per capire quello che sta succedendo penso ad alcuni generali alcuni generali l'hanno detto chiaramente ma alcuni generali non in pensione che i generali in pensione prendano le cantonate non è strano che le prendano i generali in servizio è strano il capo di stato maggiore della difesa francese ha ammesso candidamente che lui non pensava a una guerra su vasta scala in ucraina ma perché tutto questo perché continuiamo ad analizzare le azioni di un autocrate che basa il proprio consenso su questioni di prestigio e potenza con il metro di una società che ha cercato di cancellare la guerra dall'orizzonte del pensabile e di sostituirla con cosa coi soldi col benessere è stato detto da alcuni sociologi ormai un certo numero di anni fa che l'europa occidentale ha sostituito il concetto di cittadino come era uscito dalla rivoluzione francese il citoyen le citoyen ha un contratto con la propria comunità nazionale che è fatto anche di dovere e prestigio sono cittadino francese quindi io potrò prendere le armi per battermi per la mia nazione probabilmente anche per morire per la mia nazione per sacrificarmi la cittadinanza una volta era basata sul concetto di sacrificio possibile fa parte del contratto che mi lega al mio stato nazione però ecco questo concetto di cittadino prodotto dalla rivoluzione francese cioè della nostra matrice culturale migliore è stato sostituito dal concetto di consumatore quindi noi allo stato di cui facciamo parte oggi non chiediamo più prestigio e difesa chiediamo benessere il problema è che non per tutti è così ecco in russia non è così mi viene da pensare a varie cose ascoltando la tua domanda la tua risposta non era una domanda la prima è che la storia diviene dobbiamo abituarci a non fermarsi a non fermarci come storici all'osservazione del passato senza pensare che la storia diviene la seconda invece più legata all'attualità e a quei giorni in cui si prendevano in giro gli analisti statunitensi perché dicevano guardate che attacca e la terza che introduce la mia prossima domanda è hai parlato di cattiva analogia tra putin e hitler non è che in europa soprattutto nell'europa occidentale dopo il 1945 si è pensato che la guerra fosse scomparsa dal dal possibile dall'immaginario possibile per l'osservatore e per il cittadino europeo occidentale può essere che sia successo questo è sicuramente successo così non subito non subito dopo il 1945 ma attraverso un cammino di rielaborazione culturale che possiamo definire smilitarizzazione culturale che parte con il 1945 parte con il rendersi conto che la seconda guerra mondiale ha lasciato soprattutto un'europa in macerie e arriva se non altro alla fine degli anni 60 con il deflagrare dei grandi movimenti di contestazione giovanile questa demilitarizzazione culturale è stato l'oggetto di una serie di studi non è che ce la stiamo inventando oggi penso a un bravissimo storico specializzato in storia della germania che si chiama schian che ha scritto un volume che è stato malamente tradotto anche in italiano con il titolo l'età posteroica ma il titolo in realtà non è suo però bisogna dire che rende bene l'idea del libro età posteroica in realtà non è una formula da storici è una formula da analisti è stata coniata da uno spirito bizzarro non esattamente forse l'osservatore più lucido della terra che si chiama edward lutwack un ex consulente strategico della casa bianca anche lui ha finito di fare il suo mestiere deo grazias negli anni 80 alcuni anni dopo lui ha lanciato questa formula una formula in realtà molto sprezzante secondo lui gli europei vivono in un'età posteroica perché hanno rinunciato all'idea di poter fare la guerra dico che è sprezzante perché lui la vede tipicamente da nord americano e questa idea che gli europei si cullino in una sorta di percezione decadente del mondo per cui non è più necessario prepararsi per fare la guerra per difendersi per difendere i valori della liberale democrazia in cui vivono e beh questo è bisogna dire un filo rosso nel pensiero statunitense è stato detto da presidenti conservatori e repubblicani è stato detto anche dall'entourage di obama gli europei non spendono abbastanza per prepararsi a fare la guerra il che è vero peraltro la percentuale di pil dei paesi europei che viene investita per sostenere implementare preparare il proprio arsenale il proprio personale specializzato nel mestiere delle armi è infimo non raggiunge praticamente mai quel 2 per cento che è considerato la soglia minima del pil da investire infatti la germania ha cambiato idea negli ultimi giorni un altro risultato fantastico di della mossa geniale di vladimir putin è di aver spinto il governo tedesco peraltro un governo retto dai socialdemocratici a varare il più grande programma di riarmo tedesco dai tempi di bismarck in un paese che per mezzo secolo si era cullato nell'idea che la guerra non era più a fare suo ora so che è un pochino surreale da dire perché tutti noi in realtà viviamo sull'inerzia memoriale di ricordarci i tedeschi come un popolo di combattenti ma nell'ultimo mezzo secolo le forze armate tedesche la bundeswehr erano ridotte da far pietà erano diventati i protagonisti di una serie di barzellette che una volta erano dedicate agli italiani nelle ultime missioni di pace sostenute dalla bundeswehr gran parte dei loro mezzi soprattutto i mezzi a terra non andavano perché non avevano i pezzi di ricambio alcuni soldati professionisti non avevano gli armamenti e l'equipaggiamento corretto se li dovevano procacciare per conto loro la bundeswehr era ridotta veramente male la decisione di varare un piano di riarmo così massiccio la cifra che è stata citata poi bisognerà vedere in quanti anni in quali modi ma è stata strepitosa si sta parlando di 100 miliardi di euro è qualcosa che non ha precedenti non dico nella storia della germania repubblicana non ha precedenti neanche nella storia della germania imperiale i programmi di riarmo di hitler per dirla tutta dopo il 1933 procedetero con un pochino più di cautela poi alla fine ovviamente investirono una parte molto rilevante del pil tedesco dell'epoca soprattutto quando hitler decise di re istituire la coscrizione obbligatoria ma non erano partiti così di slancio non avevano avuto questo effetto annuncio in realtà l'idea che l'europa abbia vissuto fino al 24 febbraio scorso in una favola è vera ed è falsa allo stesso tempo già il fatto che il libro di shian prendesse una serie di cantonate è stato rilevato molto spesso non è vero che dopo il 1945 la guerra sia uscita dalle agende politiche europee innanzitutto bisognerebbe capire quale europa la francia l'inghilterra che fino agli anni 60 hanno combattuto guerre postcoloniali l'italia che in cui non si parlava più di guerra ma ci si riarmava la germania sicuramente sì lì probabilmente c'è un primo bias cognitivo quello dello storico germanista non è nemmeno vero che dagli anni 90 oggi quella che è stata considerata l'epoca pacifica per definizione la guerra sia veramente uscita dalle agende politiche e dagli orizzonti culturali di guerra ne abbiamo fatte tante poi le abbiamo chiamate con un altro nome le chiamavamo missioni di pace ma erano guerre il fatto è che in realtà non è da ieri dal 24 febbraio che la guerra è tornata a essere immanente nelle nostre vite lo è da almeno un decennio forse anche qualcosina di più solo che abbiamo fatto finta di niente allora sì da questo punto di vista gli europei occidentali sono vissuti in una favola e quella favola è finita è finita il 24 febbraio è finita quando ci siamo resi conto che la guerra non è più qualcosa di esotico e esotico ha una definizione molto molto ampia era esotico in afghanistan potevamo chiamarla missione di pace non lo era ma potevamo chiamarla così e non ci riguardava da vicino se non quando si presentavano le leggi di rifinanziamento delle missioni di pace in parlamento era persino esotica quando si combatteva nei balcani negli anni 90 noi ce lo dimentichiamo spesso ma negli anni 90 si sono sparate cannonate al confine di nova gorizza per non parlare del drammatico assedio di sarajevo dal 92 al 95 e tutti anche lì abbiamo fatto finta di non vedere ci si indignava ma non si voleva mai ammettere che la guerra era tornata a bussare alle porte di casa ecco il 24 febbraio la bussata è stata parecchio forte e adesso non possiamo più fare finta di niente la guerra è tornata a essere un problema che ci riguarda direttamente per molti motivi uno dei quali è che nonostante molti segmenti di opinione pubblica specialmente in italia ma non solo in italia stiano ancora cercando di far finta di niente soprattutto psicologicamente e beh dal 24 febbraio la guerra è tornata a essere un problema che ci riguarda tutti i giorni non solo perché costa potremmo anche non volerla fare ma costa comunque ho fatto il pieno ieri ecco ma perché so che è scomodo dire ma noi in guerra ci siamo già io non mi capacito del fatto che molti non se ne rendono ancora conto ma l'unione europea di cui noi facciamo parte la nato di cui noi facciamo parte dal 49 e la repubblica italiana per decisione unanime del suo governo e per bocca dichiarata del suo presidente del consiglio sta fornendo armi a un paese belligerante questo in termini in termini tecnici si chiama proxy war o guerra per procura quindi a me spiace sottolinearlo ma pensare che possiamo continuare a far finta di niente voltandoci dall'altra parte non è solo stupido è ipocrita hai molto parlato di armi alcuni osservatori anche molto informati hanno sottolineato il fatto che la guerra si combatta anche con anonimus con attacchi cibernetici con le macchine con i computer però tutto questo raccontare di armi e di riarmo ci dice che le armi servono e come dal fucile all'aereo alla bomba è cambiato qualcosa o siamo sempre nella stessa guerra che abbiamo visto nel secolo scorso allora separerei i due aspetti l'aspetto tecnico la tecnicalità del come si fa la guerra tra fine ventesimo inizio ventunesimo secolo e l'aspetto narrativo della guerra dal punto di vista tecnico non c'è dubbio che la guerra oggi non si faccia più solo con le armi sul terreno però il problema è che si fa anche con le armi sul terreno sono state coniate dagli analisti tutta una serie di etichette che descrivono l'evoluzione tecnologica rapidissima e lo sfondamento di una nuova dimensione del modo di fare la guerra che è la dimensione del virtuale guerre cibernetiche guerre ibride guerra ibrida vuol dire che le dimensioni della guerra sono molteplici ma anche che vengono coinvolti molteplici soggetti eserciti regolari milizie locali irregolari foreign fighters un'altra dimensione che stiamo vedendo adesso in ucraina la guerra è diventata un oggetto estremamente fluido ed elastico tra ventesimo e ventunesimo secolo su questo non c'è dubbio oggi la guerra non si combatte più solo con le armi convenzionali in realtà lo sappiamo dal 1945 che non si combatte più solo con le armi convenzionali e potremmo anche ricordare che pensare che oggi solo oggi la dimensione della cibernetica delle informazioni abbia un ruolo importante beh vuol dire dimenticare che la guerra è fatta anche se non forse soprattutto di comunicazione se non altro il primo conflitto mondiale si chiama strategia mediatica ed è una delle dimensioni del come si fa la guerra le guerre si vincono e si perdono anche e per certi versi soprattutto oggi sul terreno della comunicazione basta vedere basta notare basta sottolineare come gli ucraini stiano vincendo su quel fronte benissimo la loro strategia mediatica è di enorme successo quella russia è estremamente deficitaria il problema è che a questa analisi tecnica bisogna affiancare un'analisi dei testi narrativi perché è così importante per gli europei occidentali dirsi che ama tanto le guerre non si fanno più sul terreno le fanno i computer le fanno le macchine le facciamo con la comunicazione fa parte di una narrazione che possiamo datare se non altro agli anni 90 probabilmente proprio le guerre nei balcani una narrazione che ha lo statuto di legittimità di una chiacchiera da bar le guerre le fanno le bombe intelligenti hanno cominciato a dirla nei balcani e hanno continuato per tutta la prima guerra del golf le guerre non portano più tanti morti non richiedono più tanti sacrifici perché tanto le fanno le macchine è una narrazione sì è anche una bella favoletta fa parte di quella macro favoletta che gli europei occidentali continuano a raccontarsi per dirsi che tutto sommato la guerra è una cosa che non si fa più ma se si fa non la facciamo noi e beh però questo appunto è una questa è una narrazione una narrazione destituita di verità come l'ucraina sta perfettamente dimostrando ma guardate i segnali c'erano tutti anche prima in realtà questa favola non ha mai avuto legittimità la guerra si fa con la comunicazione con i computer con le macchine e con i carri armati sul terreno le armi leggere le armi pesanti i soldati che sparano e a volte muoiono hai parlato di vittime hai parlato di comunicazione ecco la questione della comunicazione sarebbe bello approfondirla magari la faremo in un altro momento anche magari speriamo di no perché significa che la guerra è andata avanti e che sarebbe bello fare un'analisi sulla comunicazione sugli insuccessi della comunicazione russa al momento ma per chiudere ti volevo fare una domanda sulle vittime abbiamo visto noi che studiamo il passato tante vittime civili nelle guerre sempre di più no quella la storia della guerra ce lo racconta abbiamo visto la fame portata dalla guerra abbiamo visto le malattie l'impossibilità di curarsi cosa ci puoi dire su questi temi secondo te sono ancora presenti nel modo di vivere la guerra del 2022 ma sicuramente sì innanzitutto perché per quanto non si possa fare i conti con l'idea di un ritorno quotidiano della guerra dobbiamo anche ricordarci che post 1914 18 e soprattutto post 1939 45 come europei noi abbiamo sviluppato una sensibilità ad alcune regole della guerra che esistono benché qualcuno come l'esercito russo in questi giorni faccia simpaticamente finta regolarmente di dimenticarsene i civili non sono bersagli legittimi della guerra come erano stati questa è un'invenzione e dobbiamo ricordarcelo relativamente moderna nella coscienza degli europei e nella capacità di vivere l'esperienza della guerra in modi più o meno contenuti ma tra 1914 1918 e tra 1939 1945 nonostante esistessero già delle leggi internazionali che lo impedivano i civili divennero bersagli della violenza di guerra e bersagli espliciti bersagli consapevoli la guerra est delle forze armate tedesche dopo l'operazione barbarossa fu una guerra di sterminio in cui l'annientamento di un popolo era il bersaglio ma non solo quella pensiamo a molte pagine della guerra civile spagnola pensiamo ad alcuni momenti delle occupazioni tedesche anche durante la grande guerra tedeschi avevano una sorta di sonderweg nei confronti dell'applicazione delle regole della guerra non furono solo loro ma loro particolarmente l'armata rossa occupando la germania dopo il 1944 li avrebbe restituito pariglia le centinaia di migliaia di tedeschi morti per l'occupazione dell'armata rossa sono una pagina che tendiamo a dimenticare oggi questo non è più tollerabile se mai lo era stato oggi non lo è più e non lo è più dai tempi in cui dopo aver vissuto la traumatica esperienza della guerra nei balcani noi abbiamo fatto ritorno all'idea che un tribunale per i crimini di guerra deve essere un istituto sovranazionale permanente che c'è e si sta già interessando a quello che succede sul terreno in ucraina oggi e ovviamente è perfettamente giusto che sia così i civili non sono e non possono essere un bersaglio nemmeno nella nuova guerra del 2022 la guerra potrà tornare a essere una parte fondamentale della nostra vita purtroppo ho detto ma non potrà tornare a essere una guerra ai civili come è stata per molti aspetti la seconda guerra mondiale un'altra dimensione che noi non dobbiamo mai dimenticare è che anche se non vengono colpiti da una violenza diretta però i civili sono fondamentalmente le vittime prioritarie della guerra moderna perché beh perché la guerra moderna ha scoperto varie dimensioni durante la prima guerra mondiale si è scoperta la dimensione dell'aria e questo ha permesso di travalicare anzi di cancellare per sempre il concetto di fronte noi oggi non ci pensiamo ma una volta il fronte di guerra nelle guerre contemporanee quelle moderne sono un altro paio di maniche come la guerra dei trent'anni ma il concetto di fronte nelle guerre contemporanee era qualcosa di abbastanza netto un esercito da una parte un esercito dall'altra che si combattono in alcuni teatri ben definiti in alcuni campi di battaglia magari a pochi metri di distanza anche sì ma militari da una parte militari dall'altra c'erano il saccheggio c'erano il vivere sulle risorse del territorio napoleone l'aveva teorizzato ma esisteva un concetto di fronte c'era anche durante la grande guerra sì però la grande guerra scopre la dimensione dell'aria e puff magicamente il concetto di fronte di distinzione tra chi combatte chi non combatte viene cancellato e cancellato per sempre oggi è ancora vero e purtroppo lo è ancora di più non solo per lo sviluppo tecnologico delle armi dei 600 missili che secondo l'intelligenza americana sono stati sparati fino a oggi dai russi contro gli ucraini oggi oggi 9 marzo beh i due terzi sono stati sparati dall'interno del territorio ucraino sì ma gli altri da quello russo e bielorusso la gittata delle armi per non parlare ovviamente della totale perdita di senso della distinzione civili militari nel teatro nello scenario della guerra nucleare chi è bersaglio chi non lo è chi è combattente chi è semplicemente vittima la guerra contemporanea ha di fatto cancellato questa distinzione io ti ringrazio marco anche perché parlando di combattenti e vittime mi eviti di fare una domanda che ti avrei voluto fare perché già hai risposto noi speriamo di avervi aiutato nell'approfondimento di temi che sono complessi ringrazio marco mondini per l'intervista che ci ha concesso vi invito a continuare a seguire la fondazione bruno kessler su tutti i suoi canali siamo presenti un po dappertutto e a cercare i nostri approfondimenti e in chiusura ringrazio molto andrea franceschini che si è occupato della gestione tecnica di questa intervista alla prossima